Sono Gero del Grande e sto cercando Gesù il Nazareno L'ha visto? Perché lo devo uccidere? Perché lui vuole togliermi queste belle fanciulle Nel senso che vuole togliere il potere Magari che non ha mai potuto capire a questo Ma non ha capito che era... Comunque, Gesù il Nazareno Baccia all'anello del potere Baccia! Baccia! Come va? Voglio riposare ora un po' Baccia! 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 Grazie.